Ha mai vissuto da solo, prima? No, mai. La sua ultima relazione, quanti anni ha durata? 12. Preferenze sessuali? Le donne. Ha figli? No. E il cane? È mio fratello. È stato qui un paio di anni fa, ma non ce l'ha fatta. Buongiorno. 44 giorni restanti. La colazione è servita. Come saprà dall'esperienza di suo fratello, se non riesce a innamorarsi di qualcuno durante la sua permanenza qui, si trasformerà in un animale? Ti va di ballare? Ti spiace, sento anch'io. Ovviamente non è una coincidenza che i bersagli rappresentino persone singole e non coppie. Hai catturato dei conigli? È piuttosto difficile. Insomma, grazie. Dobbiamo essere sincronizzati. 5, 4, 3, 2. Ha pensato a che animale vorrebbe diventare se restasse da solo? Sì, una ragosta. Una ragosta è una scelta eccellente. Non posso andare più veloce. Questi pantaloni mi stanno stretti, mi dispiace. Comincia a prendere forma il cast di War of the Planet of the Apes, il terzo capitolo della saga. La new entry di peso è Woody Harrelson, che conoscerete tra i mille film che ha fatto per Non è un paese per vecchi, oppure per la saga di Hunger Games. Harrelson sarà il cattivo umano. Presumibilmente un personaggio chiamato Colonnello, e si aggiungerà a Cesare, ovvero Andy Serkis in Motion Capture. War of the Planet of the Apes uscirà il 14 luglio del 2017. Cosa ne pensate della scelta? Vi sembra un cattivo adatto? Per me è perfetto. Fatemi sapere, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!